bravo presidente così che riguarda ottimo così si fa r così si fa sul pari parla centro e si ricomincia non ti rispondo perché non vuole far bannare il canale ma hai rotto giusto eri porta rispetto ero rimasto centro capo porca troia mi si era pagato il gioco che faceva pancino queste benchie e malafede ma pancino che faceva quando è fischiato il fisco di inizio guardatevi in casa guardatevi in casa ma giocate mezzo e mezzo apoli e poi c'è la roma che se interessata a murier e poi c'è che un giocatore se può muovere da il milan e quello è lea e poi andiamo su la juve che farò un'offerta a zagnolo in estate non so dei quanti i soldi ma poi passiamo ok allora vabbè ogni tanto poi che poi damiano è proprio sito anche del mondo del tennis c'è proprio l'atteggiamento che va tenuto durante le parti e lo dicono proprio c'è tu ma che cazzo fa ma fa in ma lei non può ma come ma come che è la stadio ma ma buttatelo fuori ma buttatelo tutti lo sanno e da milano a bari tutti sanno che quando inizio a raffare tu puoi solo accompagnare vabbè non so cosa la maratona insegna tante cose ma la più importante di questa è che fa schifo lavorare non fa rima ma non fa rima ma non fa rima non accompagnare e lavorare a ma noi mmm sì sei contento di questo scudetto raspo buongiorno buongiorno completamente è completamente è un altro ma vaffanculo ma che cazzo che cazzo hanno distrutto della droga e io che vado dallo spaccino basta andare a vedere la finale ma tutti questi strilli per il doppio non c'è nessuno qua ma come lo stalker ma chi è questo fenomeno i ringo si niente di amare alla fine era giusto per edulcorare un po' ne stavamo già parlando con alfio surf non fate che calling alle persone per favore queste molestie chi c'è la juve o l'inter sono un palesemente ubriachi quello giusto è beccato ma che cos'è sta per superare il collegamento di guarro questo nel mio cuore questo è il premio ma che fa vitale no 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 l'ho sgamata cos'era quella vitale no così no alla fine della stagione vabbè faccio finta di non averlo visto vitale faccio finta di non averlo visto no ma qua c'è sai quei professori che sai quei professori che facevano cioè ti volevano bene dicendo vabbè sei un coglione ti vedo che copio però non ti dico nulla tanto comunque al massimo sei prendi voglio essere un po' un prof attenzione come sgorga finito era questa risulta pancio no no hai fatto tutto da solo grazie in angon buon lavoro prego a presto ciao in 4 siamo ma questa dai in 3 la potete andare a ribaltare il gufa mania vabbè ma questa è clamorosa e no questo è proprio c'è no grazie